Tanto dono che alla fine piove. Gli Stati Uniti si sono formalmente ritirati dal trattato INF, un accordo firmato nell'87 con la Russia che prevede che nessuno dei due paesi possa avere un certo tipo di missili nucleari a media gittata. Una decisione che ha portato il segretario generale della Nato ad affermare che il nostro deterrente nucleare rimane intatto sicuro ed effettivo. I nostri alleati rimangono legati alla preservazione di un controllo effettivo e di non proliferazione degli armamenti. Non risponderemo alla Russia, non vogliamo una nuova corsa agli armamenti. Lo scorso febbraio il presidente statunitense Donald Trump e la Nato, alleanza difensiva nata dopo la seconda guerra mondiale, avevano accusato la Russia di aver violato il trattato e avevano dato al governo un ultimatum. La Russia avrebbe dovuto distruggere alcuni missili entro questo venerdì 2 agosto, in caso contrario gli Stati Uniti avrebbero considerato l'accordo non più valido. Così un analista. Gli Stati Uniti sottolineano che la Cina sviluppa rapidamente il suo arsenale, ma non si sottopone a nessun trattato di non proliferazione di armi nucleari. Ciò che gli USA hanno detto è che, poiché la Russia non intende rispettare questo trattato, bisognerà averne uno più onnicomprensivo a cui partecipino più paesi e che potrebbe essere la base di un accordo più importante per la non proliferazione di arsenali nucleari. È vero che il ritiro degli Stati Uniti dal trattato potrebbe rilanciare la corsa agli armamenti, ma permetterà anche a Washington di ammodernare il proprio arsenale nucleare, considerato vetusto e pericoloso. Un obiettivo annunciato pubblicamente dal Pentagono da oltre un anno. Mosca, dal canto suo, si è detta disponibile a discutere su di una nuova moratoria per gli ordigni nucleari a media gittata. Iscriviti al nostro canale.